Che cos'è uno Stato moderno? È un territorio in cui vige una legge posta dal sovrano, chiunque egli sia. Questo è fondamentale, vuol dire che è uno spazio disarticolato, vuol dire che la politica è tracciare confini, perimetri e basta, e che dentro questi confini, dentro questi perimetri ci si affida a che cosa? Al fatto che le soggettività che hanno costruito questa forma e che la abitano, nel costruirla abbiano ben compreso a che cosa rinunciavano, cioè alla propria libertà naturale. È ciò che resta dopo che si è tracciato un perimetro e basta. E lì dentro si procede secondo ciò che dice la legge sovrana, ma questo significa che lì dentro si procede secondo la volontà del sovrano. L'interpretazione estremistica della modernità vede nella modernità più che una biopolitica, una tanatopolitica, cioè una politica capace di essenzialmente, una politica che ha in pugno la vita e la morte dei cittadini perché i cittadini non hanno luogo, perché di essi si può fare qualunque cosa, perché lo Stato moderno è una macchina utopica.